Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. Un pizzico di verità sulla questione delle province vogliamo farla a parlare. Il presidente nazionale dell'UPI, Achille Variati, l'Unione delle province italiane, insieme ai presidenti delle province del cratere del centro Italia. Intanto il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha ripercorso i giorni dell'emergenza e gli interventi attuati per chiedere aiuto al governo, il servizio di Francesca Romana Testi. Noi abbiamo delle cose da dire, ma qui non siamo davanti a voi e quindi attraverso voi, ai cittadini, né per discolparci né per difendere chissà quali privilegi, ma per un pizzico di verità se questa può servire. Nel nostro paese si parla tanto di riforme, ma a che cosa servono le riforme? Le riforme servono a rendere più efficienti i servizi ai cittadini. Punto. E oggi noi purtroppo dobbiamo raccontarvi una storia di una riforma che è partita forse con intenzioni positive, ma che poi è un esempio di una cosa che non va nel paese. Vedete, noi possiamo anche essere in questo momento i principali attori e eventualmente i diretti interlocutori per i cittadini che subiscono tragedie come quelle che stiamo vivendo in questi giorni. Però siamo qui a lavorare come province, come UPI nazionale, soprattutto per certificare il grido di allarme che arriva soprattutto dai sindaci. Io quella mattina del famoso giorno 18 ero proprio in prefettura, le 10 da mattina, in quella circostanza ho chiesto l'intervento dell'esercito. L'ho chiesto in modo anche coraggioso e netto, così come a mezzogiorno ho deciso di chiedere l'aiuto al Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni e a tutta la catena successiva, Protezione Civile Nazionale, Regione, Prefettura e Vigili del Fuoco. Questo a testimoniare che il lavoro che noi potevamo fare in quella circostanza con le difficoltà di una perturbazione complessa, multipla, perché eravamo in prefettura con le scosse di terremoto che facevano ballare anche tutte le istituzioni presenti, significava in quel momento che eravamo veramente sotto attacco. E quindi le province, a mio modo di vedere il sistema della riforma, o tornano a essere funzionali con le risorse certe, e io faccio un appello al Presidente della Repubblica su questo, perché Mattarella non ci può lasciare soli, dopo l'incontro di gennaio dell'anno scorso, dove lui stesso disse in Quirinale, e io me lo ricordo bene, lo disse anche a tutti e lo ribadì a me in un colloquio diretto con lui, che avrebbe fatto di tutto che le storture dettate dalla riforma delle province dovevano essere riorganizzate, perché non si può lasciare il 75% del Paese Italia all'abbandono. Nel 2008 lo Stato non faceva nessun prelievo sulla provincia di Chieti e sulle altre province, nel 2016 ha fatto un prelievo di 14 milioni e 900 mila euro, siamo diventati il Bancomat del Governo. Due dati importanti, manutenzione e viabilità, questo in condizioni normali, la spesa che faceva la provincia di Chieti era 1.590 euro a chilometro nel 2008, oggi possiamo farne 849, la letteratura tecnica dice che la manutenzione va da 4.000 a 6.000 euro il chilometro, ovvero noi spendiamo un sesto di quello che dovrebbe essere. Manutenzione edilizia scolastica, nel 2008 7,6 euro a metri quadri, nel 2016 2,97 euro a metri quadri. Avevamo previsto molto, avevamo previsto tanto e l'avevamo detto, non avevamo previsto tutto e non avevamo previsto che è stato smantellato un sistema e non è stato sostituito da un altro sistema, perché vedete non è soltanto una questione di provincia, ma noi in queste due settimane abbiamo imparato un sacco di cose e abbiamo imparato che non c'è più nulla, non è più l'Italia dei cento campanili, non è che manca la provincia, qui non ci sta più quello dell'Enel, non manca lo stradino, non c'è più il cantoniere, non c'è più quello dell'Enel che conosce dove sta la cabina, dove sta il traliccio, dove sta l'impianto, non c'è più la guardia forestale, non c'è nulla, non è più l'Italia dei cento campanili e a pagarne le conseguenze sono quelle che il Presidente diceva ai cittadini di serie B. Non è possibile che nel 2017 questo evento sia accompagnato in provincia di Teramo dal distacco di 70.000 utenze. Voi non avete idea di cosa significa stare dentro una casa piena di neve, irraggiungibile, al buio e con tre scosse di terremoto. Questo è cambiato. Celebrati quest'oggi a Penne i funerali di Linda Salsetta, dipendente dell'hotel Rigopiano, una delle 29 vittime della valanga che ha travolto e distrutto la struttura. La cerimonia è stata ufficiata nella chiesa di San Gabriele della Dolorata, in frazione Conaprato, poco distante dalla contrada in cui la giovane viveva. è stata gremita la chiesa, tanto da non poter accogliere le tante persone che hanno voluto partecipare alle esequie. Linda Salsetta sarà tumulata al cimitero di Penne, attualmente chiuso a causa del maltempo. Nel frattempo il feretro si trova nella chiesa del cimitero. Lutto cittadino domani a Pescara, nel giorno dei funerali di Roberto del Rosso, proprietario dell'hotel Rigopiano, con i funerali che saranno celebrati sempre domani alle ore 15 nella cattedrale di San Cetteo. Il lutto cittadino è stato programmato dal sindaco Marco Alessandrini, sottolineando che la città è stata duramente colpita da questa terribile sciagura. Nell'ordinanza che dispone l'esposizione delle bandiere a mezz'assa, si invitano i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive della città ad esprimere autonomamente, secondo forme e modi che riterranno opportuni, il proprio cordoglio. Del Rosso, 53 anni, aveva ereditato da uno zio la struttura, costruita nel 67, e nei primi anni del 2000 aveva scommesso tutto su quel complesso, trasformandolo in un resort con annessa spa. E sempre domani, alle ore 15, verranno celebrati i funerali di Stefano Fegnello nella chiesa di Santa Maria Assunta a Silvi. Stefano Fegnello, 28enne, vittima, una delle 29 vittime, anche lui, della terribile tragedia dell'hotel Rigopiano. Il sindaco di Silvi, Francesco Comignani, ha proclamato per domani il lutto cittadino. Stesso provvedimento da parte del primo cittadino di Valva, in provincia di Salerno, paese di origine della famiglia Fegnello, e di quello di Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, cittadino in cui il giovane era residente. Alle eseque saranno presenti i sindaci dei tre comuni. Sarà l'arcivescovo della diocesi di Chietivasto, Monsignor Brunoforte, ad accogliere e benedire domenica prossima, alle ore 11, sul sagrato della chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto, le salme di Jessica Tinari, 24enne estetista e del finanzato Marco Tanda, deceduti sotto le macerie dell'hotel Rigopiano a Farindola. Dopo la benedizione del presule, il feretro di Tanda, pilota 25enne della Ryanair, ripartirà alla volta di Castello Raimondo, in provincia di Macerata. I soccorritori li hanno trovati assieme nella zona TV, nell'albergo dove non era la prima volta che soggiornavano. I funerali della ragazza saranno celebrati dal parroco Don Domenico Spagnoli e domenica sarà lutto cittadino a Vasto, lutto proclamato dal primo cittadino Francesco Menna. In Regione Abruzzo si è svolta una riunione per discutere del piano di emergenza in caso di problemi alla diga di Campo Tosto. La riunione arriva dopo l'allarme lanciato dalla Commissione Grandi Rischi su un possibile sisma che potrebbe danneggiare l'argine dell'invaso artificiale. Vediamo. Il rapporto tra l'attuale funzionalità della diga di Campo Tosto, le norme vigenti, il documento di protezione civile della diga di Rio Fucino ed il documento di emergenza evacuazione, sono stati punti focali dell'odierna riunione per la redazione del piano di emergenza della diga di Campo Tosto. Al tavolo di lavoro presieduto dal presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, e svoltosi questa mattina in Regione a Pescara, il quarto in una settimana su questa specifica tematica, hanno partecipato tra gli altri il vice prefetto vicario dell'Aquila, Giuseppe Guetta, il sottosegretario con delega alla protezione civile, Mario Mazzocca, il consigliere regionale Luciano Monticelli, il direttore generale della Regione Cristina Gerardis e il direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Emilio Primavera. Abbiamo valutato la vigenza dei documenti, ha dichiarato D'Alfonso, soprattutto la qualità delle informazioni allo Stato anche la luce del fatto che uno dei documenti di pertinenza del Ministero delle Infrastrutture è datato 2000, sebbene con scadenza al 2018. Tuttavia, proseguito siccome un invaso è un corpo vivo, abbiamo anche voluto verificare la puntualità delle informazioni contenute per attivare subito dopo il piano di emergenza che spetta come redazione a Regione e Prefettura dell'Aquila. Sono stati coinvolti tutti i comuni del bacino di riferimento per fare in modo che, in caso di evacuazione, che al momento è scongiurata, siamo in grado di compiere tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. Abbiamo anche verificato la quantità idrica dell'invaso di Campotosto e la quantità idrica che deve essere eliminata, aggiunto D'Alfonso, e secondo quale tempistica, in caso di necessità, debbano coordinarsi autorità di bacino, sindaci e autorità di sicurezza. Infine, a concluso, abbiamo verificato la condizione di tutti gli altri invasi della Regione per fare in modo che nessun evento ci colga impreparati. Peraltro, già fino a ottobre, dopo gli eventi tellurici di quel periodo, avevo chiesto personalmente al direttore delle dighe presso il Ministero delle Infrastrutture di verificare quale fosse stato il livello dei danni prodotti dalle sollecitazioni sismiche. E il Vice Presidente della Commissione Grandi Rischi, Gabriele Scarascia Mugnozza, si è dimesso alla base della decisione, secondo quanto si apprende, il contrasto con il Presidente Sergio Bertolucci, dopo le sue dichiarazioni su un possibile effetto vaiont per la diga di Campotosto in caso di una nuova forte scossa di terremoto. Secondo Scarascia Mugnozza, le parole del Presidente sono state associate alla Commissione Grandi Rischi, nonostante nel verbale della riunione non si facesse alcun riferimento al vaiont. Le dimissioni sono arrivate ieri al Dipartimento della Protezione Civile che dovrà ora inoltrarle alla Presidenza del Consiglio. E lutto cittadino domani anche all'Aquila in occasione dei funerali di quattro delle sei vittime dello schianto dell'elicottero del 118 nell'Aquilano. Lo ha proclamato il Sindaco Massimo Cialente. Si ritiene doveroso, interpretando il comune sentire della cittadinanza, proclamare il lutto cittadino in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore delle famiglie coinvolte per la inattesa e tragica scomparsa dei loro congiunti. Le sequi saranno celebrate nella chiesa di San Bernardino per gli aquilani Walter Bucci, medico, e Giuseppe Serpetti, infermiere, per il terramano Davide De Carolis del Soccorso Alpino e il foggiano Mario Matrella, tecnico di bordo. Il rito verrà ufficiato dell'Arcivescovo Metropolita dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi. Saranno presenti tre cori del CAI, della Portella e di Collemaggio, sempre nella stessa chiesa a Camera Ardente, già aperta da oggi alle 17 fino a poco fa alle ore 22, che riaprirà domani fino a mezzogiorno. Nella Camera Ardente vi sono le salme di tutte le vittime, anche quelle del romano Ettore Palanca, turista che si era infortunato sugli sci a Campo Felice, e del riminese Gianmarco Zauoli, pilota del velivolo. Chiusa la Camera Ardente, i loro ferretri partiranno per le città di origine. Gli esami autoptici sono stati conclusi questa mattina, intorno alle 11.30, e sono stati svolti dall'anatomo patologo Giuseppe Calvisi. Hanno dato l'esito prevedibile, decessi per traumatologia. E sempre all'Aquila, in via precauzionale e cautelativa, l'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale resterà sospesa da domani, sabato 28 gennaio a martedì 31. Lo prevede un'ordinanza del sindaco Massimo Cialente, adottata in relazione allo sciame sismico che in queste ultime ore sta interessando la città. Il settore ricostruzione pubblica rende noto inoltre che in seguito a sopralluoghi nella frazione di Arischia, a causa dell'aggravarsi delle condizioni degli edifici già danneggiati dal sisma del 2009, si è reso necessario emanare 43 ordinanze di inagibilità per rischio esterno di immobili nel centro storico e il conseguente sgombero delle famiglie. I sindaci dell'Abruzzo si sono incontrati questa mattina nella sede della provincia di Teramo. Ognuno di loro ha gridato il proprio dolore, ma soprattutto si sono confrontati su come agire e su quali decisioni prendere dopo l'annuncio della Grandi Rischi. Tania Bonici Castelli. I sindaci dell'Abruzzo si sono incontrati nella sala consigliare della provincia di Teramo. Chiamati per un confronto dal lancio Abruzzo sull'emergenza in cui versa gran parte della regione, hanno risposto all'invito in tanti. C'erano i primi cittadini dell'Aquila, di Chieti e dei comuni montani dell'entroterra Teramano ed ognuno di loro ha raccontato le drammaticità di un territorio in ginocchio. Castelli oggi griderà il suo dolore? Assolutamente sì, noi lentamente stiamo tornando alla normalità, ma veniamo fuori da una settimana drammatica. Senza esagerare dico che sono contento di aver perso vite umane, perché in alcune frazioni dove siamo arrivati dopo quattro giorni di isolamento abbiamo rischiato di perdere davvero delle persone. Cosa chiedete oggi? Ma cosa chiediamo noi oggi? Io quello che dico soprattutto come sindaco è il sostegno delle istituzioni, perché non è possibile che poi il cerino rimane sempre in mano al sindaco. Le responsabilità sono sempre in capo a noi, adesso c'è questa spada di amocle della nota della Commissione Grandi Rischi, noi non sappiamo cosa fare. A noi chiamano le mamme, ci chiedono, sindaco quando riapriamo la scuola, io sinceramente non so che risposta dare a queste persone. Voi che cosa chiedete? Quali soluzioni proponete? Ma ci sono delle soluzioni molto concrete, abbiamo tanti di noi, tanti soldi parcheggiati e non utilizzabili a causa dei vincoli di bilancio, vogliamo utilizzare queste economie, ce le abbiamo, ce le abbiamo in cassa, non le possiamo toccare, che ci mettessero in condizione di poter utilizzare. Sindaco, ma in base alla sua esperienza drammatica, noi da questo dramma come ne usciamo? Anzitutto con la sicurezza, molto del problema rispetto a questa tempesta perfetta che abbiamo avuto è legato soprattutto qui nel Terramano e nell'Aquilano al problema del terremoto, che sta generando questa sensazione di insicurezza, che se viviamo noi si figuri come viene vissuta a coloro che dovrebbero investire o venire qui da noi, quindi è un colpo all'economia drammatica. Allora, la prima cosa a fare, anche perché la gente non vada via, soprattutto i giovani, è mettere in sicurezza il paese partendo proprio dall'Aquila, dal Terramano, quindi intendo... Sognerà avviare un progetto specifico di rilancio economico di questo territorio, che però passa necessariamente su una prima cosa, dire l'Abruzzo è sicuro, è sicuro se stai sulla costa a fare le vacanze, è sicuro se vieni a studiare in un'università abruzzese, è sicuro se metti un'impresa e così via. Tra gli ultimi sindaci ad arrivare all'appuntamento in provincia a Terramo, il sindaco di Valle Castellana, infreddolito, avvilito, dopo dieci giorni dalla grande nevicata, ancora non riesce a raggiungere due frazioni del suo comune. Il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, ha incontrato nel pomeriggio a Terramo il comitato delle mamme in rappresentanza di 1.700 genitori terramani, alla presenza del prefetto Graziella Patrizzi, il sindaco Maurizio Brucche e il presidente della provincia, Renzo Di Zapatino. Prima di ascoltare i genitori, il governatore ha spiegato agli amministratori le procedure per accedere ai finanziamenti per gli studi di vulnerabilità delle scuole ai tempi di attuazione. I genitori di Terramo chiedono a gran voce scuole sicure e trasparenza sugli appalti. Il sindaco Brucche ribadisce la volontà di non riaprire per il momento gli edifici scolastici in attesa di trovare soluzioni diverse dopo aver effettuato tutti i controlli possibili. Anche se, aggiunge Brucche, prima o poi si dovrà tornare a scuola per non perdere l'anno scolastico. Il presidente D'Alfonso ha chiesto ai sindaci e ai genitori di non cadere nella trappola dell'allarmismo ingiustificato. E ora cambiamo pagina. Si sono svolti nella chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario di Pescara questo pomeriggio i funerali di Gianni Cordova, il fondatore della LAD, la Lega Abruzzese Antidroga. Ha scomparso ieri dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Tante le presenze che hanno omaggiato il suo ricordo e l'importante opera svolta su tutto il territorio abruzzese. Per gli amici era Gianni, più confidenziale e amichevole, così disponibile al contempo elegante e pacato. Lo conoscevano rappresentanti della politica, giornalisti, associazioni di solidarietà, ragazzi, volontari, operatori del sociale, medici. Un'intera comunità abruzzese, sempre propositivo, attivo, ironico e premuroso. Nella giornata dell'ultimo saluto a Gianni Cordova, fondatore della Lega Abruzzese Antidroga, si sosseguono ricordi e pensieri legati al segno intangibile lasciato nel corso del suo cammino, dalla vita politica a quella impegnata nel sociale, un grande abbraccio collettivo a lui dedicato. Gianni era un caro amico personale, come lo erano in fondo tutti quanti i pescheresi di questa città. La sua figura, il suo lavoro coraggioso, ostinato, innovativo, ha dato dei frutti incredibili a questa città. E anche dal punto di vista culturale, la sua gestione, il Parco Sabucchi, con quegli spettacoli che hanno appassionato la città intera, ha fatto sì che il suo impegno afferisse a tantissimi settori di questa città. Qui lo piangiamo davvero da ogni punto di vista, personale, politico, sociale e culturale. Gianni ha un grande merito, quello di aver provato fino all'ultimo a battersi per le persone marginate, le persone che spesso nella società non trovano spazio. E lui si è battuto fino all'ultimo, finché ha potuto avere fiato e forza, per provare a dare una casa a loro e dagli dignità. La parola dignità, secondo me, è la parola che più si addice al grande lavoro che ha fatto Gianni per il suo territorio, per il suo quartiere e per la città. Quale eredità lascia oggi a questa città e soprattutto a tutti i ragazzi che ha ospitato? Lascia in eredità l'idea che c'è sempre una seconda possibilità nella vita, che si può sbagliare, ma con la forza e la volontà, e anche credo l'impegno delle istituzioni si possa trovare un modo per riaffermare dei valori forti, come quello della dignità, appunto che dicevo prima, del fatto che si possa sempre trovare una strada migliore per poter costruirsi un futuro. Ma il ricordo che porto io, un ricordo sicuramente, è un giorno insomma che dovrebbe essere di tristezza, ma il mio ricordo è un ricordo sereno, perché con Gianni abbiamo sempre avuto un rapporto di amicizia, di collaborazione per il lavoro, per quanto riguarda le dipendenze, e poi anche qualche, ci siamo incrociati anche politicamente, ma insomma lui aveva sempre la battuta pronta, era molto simpatico, molto riflessivo, e quindi spesso mi veniva anche da chiedergli qualche consiglio. Lui stesso si è rivolto a me in diverse occasioni per una serie di problematiche, perché insomma per l'attività che svolgeva sicuramente aveva diversi problemi quasi tutti i giorni. E quindi insomma abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. La tristezza è rappresentata dal fatto che ci manchera tanto, ci manchera tanto per il lavoro che svolgeva, per il suo impegno, e non solo, ma anche perché era capace di dare sempre dei consigli, delle opinioni su tutte le vicende un po' della città, che ci sta a cuore a tutti, stava molto a cuore anche lui. Noi domenica celebreremo la quindicesima edizione del Galà della Solidarità, una manifestazione nata anche con il contributo di Gianni Cordova, 15 anni fa, e noi lo ricorderemo domenica mattina a Montesilvano. Fu lui proprio che ci disse chiaramente che era molto disponibile a partecipare, ma soprattutto a coinvolgere tutte quelle altre associazioni che hanno fatto del volontariato la propria missione di vita. Ogni volta quando veniva testimoniava davvero con affetto e con grande partecipazione il suo interesse verso una manifestazione che, come ripeto, lo ricorderà come giusto che sia. Aveva in casa armi e droga nella rete degli agenti della sezione antirapine della squadra mobile della Questura di Pescara. Impegnati in un'operazione straordinaria di controllo del territorio è finito un 38enne pescarese, Ernesto Cetrullo, arrestato. In un blitz nella sua abitazione gli agenti hanno sequestrato, tra la cucina e la camera da letto, oltre 2 kg di marijuana, 35 g di eroina suddivisi in 9 dosi, 9 g di cocaina in un unico involucro. Inoltre una pistola revolver Smith & Wesson calibro 38, risultata rubata a Pescara nel 2010, una pistola revolver scacciacani. Gli uomini della polizia scientifica svolgeranno accertamenti balistici per verificare se le armi abbiano sparato in passato. Ernesto Cetrullo, che deve rispondere di porto abusivo di arma da fuoco e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, è stato portato in carcere su disposizione del PM Gennaro Varone. Poi un imprenditore di 52 anni di Ortona è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di ordigni da guerra e materie esplodenti. La vicenda scaturisce da un'attività di indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia dell'Aquila. Ieri gli uomini dell'arma con unità cinofile hanno rinvenuto nei pressi dell'abitazione dell'uomo una bomba a mano, residuo bellico di fabbricazione inglese perfettamente funzionante. 20 kg di materiale esplodente utile al confezionamento di ordigni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del comando che hanno proceduto a far brillare la bomba a mano che, vista la pericolosità, non era trasportabile. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Chieti. Cambiamo ancora pagina. Allarme commercio a Pescara. Dopo le settimane trascorse nell'emergenza del maltempo, le banche annunciano il blocco totale dei flussi di denaro in entrata e in uscita. Il presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci, chiede la sospensione dei tributi per i commercianti. Impossibile fare una stima di quelli che sono stati i danni del maltempo e di quello che è successo in Abruzzo. Si cerca intanto però di guardare quella che è un'analisi di questo periodo, di queste due settimane, per quanto riguarda le attività commerciali e di pensare a un piano anche per tutelare gli esercenti. Lei parla del commercio. Sicuramente i saldi, la stagione dei saldi che si apriva il 5 gennaio, è stato, mi dispiace dirlo, ma purtroppo è così un flop perché in virtù di questa ondata incredibile di maltempo, la gente è stata rintanata in casa, addirittura non è potuta uscire, come tutti sappiamo. Penso ad altre attività come quelle dell'agricoltura, quelle dell'allevamento, dove i danni sono ancora da contabilizzare e da stimare perché è stata un'ondata incredibile, era aspettata, ma sinceramente non in queste proporzioni. E' chiaro che vanno messe in campo delle misure molto drastiche perché, come mi spiegavano i primari istituti bancari, i flussi in uscita e in entrata negli istituti di credito non ci sono perché la gente non lavora, perché è impossibilità da lavorare. Quindi al di là dei danni alle infrastrutture, alle strade, alle case, alle industrie, c'è un danno proprio di mancanza di attività per cui penso a quelle aziende che hanno degli impegni, delle scadenze a fine mese che non avendo potuto operare, non avendo lavorato, non so quanti saranno in grado a mantenere i loro impegni. Per cui c'è qualcosa di più vasto, di più importante da prendere in esame, penso a una sospensione per qualche mese degli obblighi da parte del sistema delle aziende perché non potendo lavorare, ribadisco, non potendo operare, di fatto si ferma un po' tutto il processo economico. Nel giugno scorso ho avuto occasione di visitare a Gerusalemme il memoriale israeliano dell'Olocausto. Ricordo in particolare di essermi soffermato a lungo nella sala della memoria davanti alla fiamma eterna che simboleggia il ricordo della tragedia. Lo scrive il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, che aggiunge la giornata della memoria, si celebra oggi, che fu istituita per ricordare le vittime dell'Olocausto. È un momento fondamentale di riflessione, lo sterminio di un popolo e un crimine contro l'umanità e non deve mai più ripetersi affinché non si perpetuino altri eventi del genere. Sottolinea D'Alfonso è necessario tenere vivo il ricordo di quanto accade non solo nella Germania nazista ma anche in tante parti d'Europa, Italia compresa. Mai più genocidi, mai più persecuzioni. L'emergenza per l'onorevole Terramano Paolo Tancredi, deputato di NCD, e ora la desertificazione del territorio abruzzese, dati preoccupanti anche sull'abbandono dell'Università di Teramo. Si pensa ad una zona franca per aziende artigiani e autonomi. Far tornare l'Abruzzo ad essere una terra attrattiva per turisti, studenti ed imprenditori è questo ora l'arduo compito della politica locale che deve mettere in campo creatività e saggezza per chiedere e pretendere misure adeguate al Paese Italia. Una misura che chiederete al Governo potrebbe essere quella della zona franca per l'Abruzzo, per i comuni del cratere? Sì, poi la zona franca è comunque una definizione generica che poi va definita, va precisata e dettagliata. Altre volte, per esempio, le zone franche così annunciate non hanno avuto tutto questo successo. Io la penso, sarà impopolare quello che dico, penso che vadano tutelate prima di tutto le imprese e i lavoratori autonomi, i professionisti, gli artigiani che hanno avuto penalizzazioni e rischiano di averle per il futuro e quindi dal punto di vista di esenzioni fiscali, sgravi e compagnie. Secondo me in secondo tempo vengono i dipendenti pubblici e i dipendenti. Noi non possiamo utilizzare tante risorse perché chi continua comunque ad avere uno stipendio, salvo che gli vanno riparati i danni, i danni subiti, le case e compagnia, però l'esenzione fiscale su quelli forse è meglio. Io credo che invece qui a Teramo ci sia un problema, adesso e sarà più drammatico nelle prossime settimane e mesi, ma come a Teramo come in tanti altri posti, di ricreare attrazione perché qui purtroppo c'è gente che anche sta andando via in questo periodo e quindi bisogna ricreare attrazione e perciò una zona franca sarebbe opportuna. Oggi siamo qui all'università, io purtroppo ho dati molto preoccupanti anche sull'abbandono dall'università di Teramo, quello che mi dicono sono che gli Erasmus hanno già lasciato Teramo dopo le prime scorse di terremoto e ci sono anche parecchi che dopo il terremoto del 30 ottobre, dopo le pre-iscrizioni avevano annullato le iscrizioni. Sono notizie che mi arrivano informali e non ufficiali, ma per me sono molto preoccupanti, quindi un'altra cosa da affrontare immediatamente è quella dell'università di Teramo. Noi dobbiamo mettere in campo tutte le misure che evitino e allontanino il più possibile lo spopolamento della città. Apriamo la pagina dello sport, il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio ha disposto un minuto di silenzio da osservare prima di tutte le partite dei campionati di calcio in programma nel fine settimana in omaggio alle vittime della tragedia di Rigopiano e dell'incidente occorso ai soccorritori del 118 in Abruzzo. Per il Pescara che domani sera affronterà a San Siro l'Inter, ci sarà una formazione tutta da decifrare, fuori causa Girardino, Brugman e in ultima istanza anche Fornasier, per lui un problema muscolare al retto femorale. Poi fuori causa anche Muntari, indisponibile per l'assenza ancora del transfert. Si rivede Gionberg che però non ha i 90 minuti nelle gambe. Baebec ha smaltito l'influenza ma sul suo impiego si deciderà in extremis. Oggi però in conferenza stampa l'attenzione di Massimo Oddo è stata rivolta su un'analisi dell'attuale momento e anche con delle prospettive di futuro su quello che può essere il suo futuro ancora a Pescara. Non siamo nei processi, assolutamente. Mancano 18 partite. In 18 partite il calcio ci insegna che può succedere di tutto. Ovviamente è una situazione difficile, difficilissima, però noi lavoriamo per uscire dai momenti difficili. Questo è inevitabile. Quando sei ferito fai di tutto per curarti, non certo vai a morire e questo è quello che dobbiamo fare noi. Dobbiamo lavorare per cercare di curare le nostre ferite che siano grandi, grandissime, però dobbiamo far di tutto per curarci e quindi l'unica soluzione è quella di dare tutto ogni domenica, affrontare partita per partita, cercando di raccogliere il più possibile e poi si vedrà. Ma io ho un contratto di tre anni. Se io firmo un contratto di tre anni, non è che lo firmo perché è così, perché per avere tre anni di contratto. Non ho bisogno e non mi interessa. Se firmo un contratto di tre anni è perché credo in un determinato progetto che c'è. Non è che è un dramma, l'avevamo messo in conto. Poi noi abbiamo fatto certamente... Abbiamo sbagliato, quando le cose vanno così ci sono sempre degli errori che si fanno e questo noi lo abbiamo sempre ammesso, l'ho ammesso io, l'ho ammesso la società e lo ammettono i giocatori, ci mancherebbe. Però non è che se si dovesse andare giù e scompare tutto, anzi quello sarebbe il brutto, se dovesse scomparire come fanno tante squadre. Invece io credo che questa sia una società che sapeva benissimo di andare su, voleva salvarsi, ha ancora la possibilità di farlo, ci mancherebbe, ma se dovesse andare giù è perché si sono commessi degli errori. Certamente ho fatto un errore di valutazione, ma rimango convinto che questa squadra non vale 9 punti, anzi non vale 6 punti, ma vale di più. Ha sbagliato una partita, io non penso che Bizzarri abbia sbagliato tutte queste partite quest'anno, soprattutto una piccola squadra di Serie A che lotta per salvarsi. Gli errori ci sono, poi i portieri delle piccole squadre sono più soggetti, ovviamente, sono più avvantaggiati perché possono fare tante parate, ma sono certamente più soggetti ad errori. Nelle ultime ore il tecnico dell'Inter Pioli pensa a diversi cambiamenti, in parte per una squalifica, quella di Ansaldi, ma in parte anche per il turnover in vista dei prossimi impegni in Coppa con la Lazio e poi il 5 febbraio un campionato in casa della Juventus, quindi al posto dello squalificato Ansaldi dovrebbe giocare Sant'Onna a sinistra, a destra invece al posto di D'Ambrosio che potrebbe riposare, potrebbe giocare Andreoli a centrocampo, Brozovic prendere il posto di Condogbia, mentre in attacco potrebbe esserci un avvicendamento clamoroso nel ruolo di centravanti con Palasio che prenderebbe il posto di Icardi, che anche lui sarebbe preservato e a sinistra potrebbe toccare a Eder prendere il posto di Perisic. Ascoltiamo le parole del tecnico Nerazzurro. C'è il rischio di sottovalutare un po' la gara col Pescara? No, credo proprio di no, anche perché siamo solamente concentrati su questa partita, sul nostro campionato, sulla nostra classifica e sulla nostra voglia di continuare la nostra striscia positiva. Io non lo dico solamente, ma lo penso anche che la partita più importante per noi è la prima che arrivi. Ripeto, perché abbiamo tanta voglia di continuare il nostro momento. Abbiamo avuto una lezione positiva di quello che ci aspetta sabato sera, nel senso che la partita di Palermo, dove tutti ci davano vittoriosi facilmente, non è stata così. E quindi sappiamo quello che andiamo incontro. Ci siamo concentrati e focalizzati solamente sulla partita di sabato sera. Il campionato è molto importante, poi solamente dopo la partita di sabato penseremo ad altro. perché chi insegue sa che il proprio destino dipende molto da se stesso, ma che non può dipendere solamente e esclusivamente da noi e che dipende anche da quello che faranno quelli davanti. Poi è chiaro che se noi continueremo a vincere vuol dire comunque sicuramente accorciare un po' la classifica, però noi dobbiamo rimanere concentrati sulle nostre situazioni, sulle nostre partite. Sappiamo che da qui al 28 maggio dobbiamo vincere più partite possibili per cercare di rimontare in classifica e che poi vorremmo cercare di vincere più partite per cercare di far diventare determinanti gli scontri diretti che poi dopo ci vedranno contro Roma e Napoli giocare a San Siro. E ora alla Lega Pro. Nel pomeriggio è stato presentato il neodifensore centrale del Teramo, Vincenzo Camilleri. Arriva dalla Paganese, ha sottoscritto un contratto fino alla fine della stagione e conferma Camilleri, che quella con il Teramo è stata una trattativa lampo, in particolare con il DS Bolla. Innanzitutto una sfida affascinante secondo me, perché il Teramo a parer mio non merita questa situazione di classifica, parlo di organico, di società e quindi ho voglia di mettermi in gioco qua. a Teramo. Così è stata, è stata molto veloce. Avevo, ad essere sincero, altri tipi di trattative, pure non molto lontano da qui. Però quando ieri è stato tutto, mi hanno chiamato per venire a Teramo, onestamente ho accettato subito. Non lo so, forse perché il direttore mi ha trasmesso una voglia forte, mi ha voluto parecchio, lo sentivo dalle sue parole. Quindi subito, non ho avuto dubbio, pure è stata una cosa, una sensazione così. Il direttore Bolla? Sì, ho sentito lui per telefono e ho accettato praticamente subito, in giornata. Ho giocato, parlo del più recente, adesso a Pagani, ho giocato a tre, a quattro, a tre ho giocato centrale dei tre, a quattro gioco centrodestra, così. Al Chelsea sono andato quando ero giovane, avevo fatto quattro anni di contratto, ero giovane non capivo forse la fortuna che avevo e alle prime difficoltà ho preferito tornare in Italia perché ero secondo me troppo piccolo e immaturo per affrontare un'esperienza del genere. Avevo giocato in nazionale con Carraro perché avevamo tutte trafile. Branduani siamo stati insieme un anno a Salò e Ilari siamo stati insieme a Barletta e alla Juve Restro Gioni. Chiudiamo con il ciclismo perché nei giorni scorsi è stata presentata la squadra del patron Gabriele Marchesani e la GM Europa Ovini. Dopo un grande 2016 puntate ad un 2017 ancora più ricco di soddisfazioni. Migliorarsi non è mai semplice però voi ci proverete ovviamente. Ma assolutamente sì, noi cercheremo appunto di riconfermarci a livello di vittorie per quello che abbiamo fatto tanto bene nel 2016 e sono state ben quattro vittorie, magari di farne qualcuno in più e magari di centrare qualche bella fuga in alcune gare importanti dove ci permette appunto di crearci un bel po' di visibilità che poi è la cosa più importante per noi come team e per gli sponsor. Mi aspetto molto da tutta la squadra, poi se dobbiamo fare dei nomi io faccio il nome di Lander, di Parrinello, di Tizza, di Sante, di Pacchiardo. Comunque sono tanti atleti importanti, interessanti per noi che possono veramente togliersi loro qualche soddisfazione e regalarcelo a noi veramente qualche bella cosa molto importante. Sono tifoso delle persone che credono in queste situazioni come Gabriele, è quella cosa che mi ha convinto di più cioè il ciclismo non è il mio brand, è il mio core business come si dice perché è difficile, è faticoso, è spettacolare nelle tappe più importanti, è come l'automobilismo, guardi la partenza, l'arrivo, insomma in mezzo lasci un po' stare però ecco quello che mi ha affascinato intanto era essere qui e poi la grande professionità di Gabriele è fuori di ogni dubbio. E a Gabriele Marchesani per il 2017 cosa vogliamo augurare? A Gabriele Marchesani come tutte le persone che ci stanno guardando un gran bene, sempre. Ed è tutto per questa terza edizione del TG6, TG che torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione e buonanotte.